Salve a tutti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Tg di TV City. Passiamo subito ad occuparci della situazione contagi nei comuni vesuviani, registrati 5 decessi tra torre del greco e torre annunziata. Occupiamoci ancora di prevenzione, l'ordine dei medici promuove l'iniziativa presso il complesso e la salle per somministrare tamponi rapidi gratuiti su campioni di popolazione. Passiamo alla cronaca dalla sala stampa dei Carabinieri. 21 arresti questa mattina a Napoli per estorsione, violenza e spaccio di sostanze stupefacenti. Occupiamoci poi ancora di cronaca, la Guardia di Finanza invece ha scoperto una rimessa auto nel napoletano in cui venivano smontate automobili rubati. In manette titolari del garage e gli operai colti in fragranza di reato, mentre manomettevano alcune vetture. Infine, fede e tradizione, non si scioglie il sangue di San Gennaro, non si compie il miracolo d'inverno. Vediamo tutti i servizi. 29 guarigioni sono state registrate ieri a Torre del Greco. Certificate anche 7 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 2 in regime ospedaliero e i restanti 5 in isolamento domiciliare. Di questi ultimi, 2 sono ripositivizzati. Attestato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare in regime ospedaliero. Comunicato il decesso di due positivi, uno in isolamento domiciliare e l'altro in regime ospedaliero, di classe 1937-1958. Muta dunque il bilancio dei casi a Torre del Greco. Sono 31 gli ospedalizzati, 36 in isolamento domiciliare, 1859 guariti e 57 deceduti. A Torre ha annunziato 89 casi di contagio da Covid-19 negli ultimi 5 giorni. Registrate anche 41 guarigioni e 3 decessi. Sono 259 cittadini attualmente positivi, 240 posti in isolamento domiciliare e 19 ricoverati. Sale a 1272 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziato dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 986 guarite e 27 decedute. Si conferma il trend positivo nella città di Bosco Reale. Sono 442 guariti, un aumento consistente che fa scendere a 124 l'attuale numero dei positivi. Sono 9 deceduti da inizio pandemia. Sabato 19 dicembre si effettueranno tamponi gratuiti ai cittadini di Torre del Greco. Iniziativa che ha come obiettivo quello di tracciare più in fretta pazienti esposti al virus. Si svolgerà nel complesso la sale dalle ore 9 alle ore 17 tramite un ambulatorio mobile. Ai nostri microfoni il dottor Vincenzo Schiavo, consigliere dell'ordine dei medici, che ha spiegato l'iniziativa. I soggetti candidati vengono prenotati dai propri medici di famiglia. Vengono poi invitati attraverso un sms o in alternativa una mail a recarsi presso la struttura del complesso la sal per eseguire il tampone. Il tampone viene eseguito in questi ambulatori dove ci sarà personale medico e personale infermieristico e si farà questo piccolo prelievo prima in bocca orale e poi nelle cavità nasali per poi mettere quello che è stato diciamo prelevato, il prelievo microbiologico, in un pozzetto, in un tampone ed in 15 minuti si potrà leggere la risposta che sarà positiva o negativa. Nel caso di risposta positiva sarà necessario ottemperare con un tampone molecolare che sarà diagnostico al 100%. Per quanto riguarda l'organizzazione ci saranno degli infermieri, del personale di accoglienza, ci sarà la protezione civile che invierà sei volontari per poter fare in modo di mantenere il distanziamento sociale e per evitare che si possa creare assembramento. In questo modo ci sarà vicino anche la struttura diciamo comunale con i vigili urbani grazie anche alla collaborazione e alla sensibilità del sindaco e di tutta l'amministrazione che ci ha concesso quest'area per poter eseguire questi tamponi. Ci sono in questo momento 630 soggetti prenotati per l'esecuzione di questi tamponi rapidi. La struttura mobile è in grado di erogare fino a mille tamponi. In questo modo credo che abbiamo saturato l'orario della mattinata. Siccome l'orario si protrae fino alle 17 come esecuzione di questi tamponi, forse per sabato, per venerdì pomeriggio, avremo esaurito tutte le possibilità di poter fare questo primo passaggio e questa prima esecuzione di questi tamponi antigenici rapidi. L'iniziativa nasce per permettere ai cittadini di sottoporsi al tampone più celermente data la difficoltà logistica che affronta la maggior parte degli studi medici. Gli studi dei medici medicina generale non posseggono nel 98% dei casi la logistica idonea per poter eseguire questi tamponi antigenici rapidi in sicurezza sia per i medici che per gli assistiti ma soprattutto per un problema di logistica. Pensate che i nostri studi sono in dei condomini, pensate che non possono avere un ingresso e un'uscita protetta, quindi un ingresso pulito e un'uscita sporca di un paziente che teoricamente potrebbe essere positivo. Questa tracciatura dei cittadini facendo questi tamponi antigenici rapidi ci permetterà, ci consentirà di fare diagnosi più precoce e quindi di iniziare più precocemente la terapia perché noi dobbiamo ricordare che se all'interno degli ospedali covid ci sono dei ricoverati e sono trattati in una maniera molto più intensiva, non dobbiamo dimenticare che a casa seguiamo centinaia e migliaia di pazienti presso il loro domicilio. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato 21 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea. Gli arrestati vicini al gruppo camorristico facente capo a Mascitelli, Bruno o Canotto sono gravemente indiziate a vero titolo di associazioni di tipo mafioso finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti della commissione di reati in materia di armi contro il patrimonio e la persona. Nello specifico è stata documentata l'esistenza di un'organizzazione di matrice camorristica a cui vertice si poneva Mascitelli, un'organizzazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di varia natura, commercializzate nelle piazze di spaccio controllate e con una specifica suddivisione dei ruoli dei sodali, promotore, affiliati, gestori di piazza, addette al recupero crediti e pusher. Sono state ricostruite le dinamiche criminali che hanno portato al ferimento di un noto pregiudicato di Castello di Cisterna avvenuto il 26 ottobre 2016. Un commando armato composto da quattro persone a bordo di due autovetture esplose diversi colpi di arma da fuoco contro Iannuale Roberto, figlio di Iannuale Vincenzo o Squadrone, elemento di spicco dell'omonimo clan operante in Castello di Cisterna e comuni limitrofi. Un episodio da inquadrare nei contrasti sorti per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio tra esponenti del gruppo Mascitelli e quelli legati al gruppo Iannuale. Nel corso delle indagini sono state sequestrate quattro pistole, un fucile mitraiettore e notevoli quantitativi di hashish e cocaina. Il gruppo della Guardia di Finanza di Giuliano in Campania ha individuato nella periferia di Poggio Marino un deposito di auto rubate. In particolare i finanzieri dopo aver notato un'auto IQ3 che è scortata da un'altra autovettura, si dirigeva a tutta velocità verso l'asso mediano, hanno avviato un prolungato inseguimento che si è concluso con la scoperta del capannone. All'interno, nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza, sono stati sorpresi tre napoletani mentre smontavano l'autovettura rubata. L'attività di servizio ha consentito di recuperare, oltre al veicolo rubato, di proprietà di un professionista di Giuliano, anche numerose centraline appartenenti ad autovetture oggetto di furto. I soggetti erano anche in possesso di congegni elettronici in grado di inibire le frequenze telefoniche GPS, al fine di rendere inservibili i comuni localizzatori utilizzati dalle compagnie assicuratrici. Questa mattina nel Duomo di Napoli si è tenuta la funzione solenne dove sarebbe dovuto avvenire lo scioglimento del sangue di San Gennaro, il cosiddetto miracolo invernale. La reliquia custodita nella Sacra Ampolla però è rimasta solida. Non è servita nemmeno la seconda messa a far sciogliere il sangue di San Gennaro. Al termine dell'ulteriore celebrazione il miracolo non c'è stato. Il 16 dicembre del 1631 San Gennaro riuscì a fermare una spaventosa eruzione del Vesuvio che nel giro di 48 ore costò la vita a più di 4.000 persone. Da allora in questa giornata si celebra il miracolo d'inverno con la liquefazione del sangue. Ogni volta, o quasi, che il sangue di San Gennaro è rimasto solido, sono avvenute sciagure in città. Ad esempio nel settembre del 39 è scoppiata la seconda guerra mondiale, nel 1973 quando c'è stata l'epidemia di colera, mentre nel 1980 il drammatico terremoto di Irpinia. Alle 12 la teca è stata riportata nella Cappella del Tesoro e sarà nuovamente ripresa alle 16.30. Alle 18.30 sarà celebrata un'altra missa alla presenza dell'Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, durante la quale i fedeli sperano che sia dato l'annuncio e l'avvenuto miracolo. Poche le persone presenti nel Duomo nel rispetto e le misure anti-covid. Negli ultimi due anni il miracolo di San Gennaro del 16 dicembre è però avvenuto solo nel tardo pomeriggio. C'è quindi ancora speranza per un prodigio di cui i fedeli hanno bisogno, oggi più che mai, in un periodo così difficile per la città e per il mondo. E con questo è tutto, termina così anche quest'edizione del Tg di TvCity. Vi ricordiamo i nostri recapiti per contattare la redazione, redazionichiocciolatvcity.it è il nostro indirizzo mail, mentre il numero di telefono a cui fare segnalazioni è 340 65 61 484. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a domani. Grazie. Grazie.